Nooo! Esci dalle corde! Rocky! Copriti! Forza, copriti! Così! Mia madre me le dava più forti, avanti! Dai, colpisci! Sulla faccia, dai, sulla faccia! Non fa più tanto male, eh! Finissimo, credo! Rocky continua a colpirlo con una serie di bombi, mentre Clapper è ormai fermo al centro del ring! Clapper accenna una timida reazione, ma Rocky insiste con il suo destro, adesso spinge Clapper alle corne e lo martella il corpo! Ancora! 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 È scadenato! Ancora! Clapper si difende con difficoltà, sta cedendo all'impeto di Rocky! Vai! 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 Vai, vai! Visti vai! Vai! ikalở!! Grazie a tutti.